e bella regà questo è il settimo episodio del corso python per principianti e se vi siete appena collegati ci sono altri 6 video da guardare prima di questo quindi buona visione a tutti comunque io sono fabio sviluppatore etico full stack e registro questi video durante la quarantena da coronavirus per tutti quelli bloccati a casa daglie in questo video proseguiamo con i moduli allora abbiamo anche ancora altri moduli da studiare e in particolare adesso vi mostro il modulo os il modulo os ci permette di interagire con il sistema operativo allora vi mostro alcune velocemente perché siamo un po corto con il tempo è già passata circa un'ora e dopo diventerebbe troppo lungo il corso quindi questa puntata del corso allora il modulo os ci permette di interagire con il sistema operativo lo importiamo questo non ha bisogno di essere installato e allora cosa possiamo fare con questo modulo os possiamo utilizzare una serie di funzioni ad esempio get current working directory cwd e avremo come risultato la directory in cui ci troviamo quindi la cartella in cui mi trovo attualmente che è questa qui abbiamo anche un'altra funzione che ci permette ad esempio di inviare dei comandi di sistema utilizziamo la funzione system a questa possiamo passare una stringa che contiene un comando che essenzialmente sarebbe lo stesso che digitiamo qui e in questo caso eseguiamo il nostro file e il comando viene eseguito dal nostro script python e otteniamo questo risultato qui quindi la lista di tutti i file contenuti in questa cartella in cui mi trovo attualmente possiamo anche utilizzare un'altra funzione le funzioni del modulo os sono moltissime ci sono anche dei sottomoduli e ad esempio possiamo utilizzare la funzione oslistdir e ci mostra dei directory file di una determinata path quindi in questo caso una determinata posizione e una volta che lo eseguiamo che succede adesso ok allora una volta che lo eseguiamo vediamo che come risultato abbiamo sotto forma di lista tutte le cartelle e i file tutti i nomi delle cartelle e dei file contenuti nella directory che io ho specificato qui tra le parentesi quindi in questo caso la directory è la directory principale poi un'altra funzione che possiamo utilizzare ad esempio è un attributo in realtà allora l'attributo environment ci dà accesso sotto forma di dizionario all'environment all'ambiente del nostro sistema operativo in questo caso io seleziono la path che è una variabile di sistema che contiene una serie di directory dove il sistema operativo cerca per eseguire alcuni programmi e otterrò come risultato in questo caso il contenuto della path del sistema poi quindi nel primo esempio abbiamo utilizzato un getcwd di getCurrentWorkingDirectory che come risultato ci dà la directory corrente di lavoro nel secondo esempio abbiamo utilizzato il dizionario environment e il metodo get questo in realtà è l'ultimo esempio e abbiamo ottenuto il contenuto della variabile di sistema path poi in quest'altro esempio abbiamo utilizzato il metodo system che essenzialmente ci permette di eseguire dei comandi di sistema mentre in questo terzo esempio abbiamo utilizzato il metodo listdir e è specificato una directory tra le parentesi del metodo e che essenzialmente ci dà come risultato cartelle e file contenuti in quella specifica posizione sotto forma di una lista quindi se vogliamo poi possiamo utilizzare il risultato di questa lista ad esempio per avere tutti per iterare attraverso tutti gli elementi della lista come abbiamo fatto quando abbiamo studiato le liste all'inizio del corso passiamo avanti allora il modulo Sys questo è un altro modulo che ci permette di interagire con il sistema e in questo caso lo importiamo allora il modulo Sys ci permette di fare alcune operazioni molto interessanti ne vediamo alcune allora ad esempio print print non ve lo spiego da un attimo che cosa sono allora questo lo disabilitiamo per il momento perchè questo l'ultimo comando che ho digitato questo funziona solamente in windows ve lo mostro alla fine allora iniziamo dall'inizio allora il primo comando che abbiamo utilizzato essenzialmente ci da come risultato il contenuto della versione la versione dell'interprete python che stiamo utilizzando allora dove è il risultato qui allora in questo modo abbiamo il risultato della versione questa è la versione dell'interprete python l'orario e altre informazioni relative sempre a interprete che se volete potete verificare in questo modo vedete la stessa informazione che ottenete qui quindi la versione del sistema operativo la data e altre informazioni compreso il kernel linux poi allora la l'attributo version info eseguiamo eseguiamo di nuovo il codice questo attributo ci da accesso a a a un tuple che sarebbe questo che contiene le informazioni relative alla ai 5 componenti della versione della versione dell'interprete quindi maggiore 3 minore micro livello della release quindi la release finale e il serial poi nel terzo esempio quindi la platform il sys.platform da questo attributo ci da accesso al nome identificativo del sistema quindi in questo caso abbiamo linux poi nell'ultimo esempio che ho fatto qui sysargv il quarto esempio praticamente da come risultato una lista di argomenti passati alla riga di comando tramite uno script quindi in questo caso il risultato è solamente questo ma se ad esempio chiamiamo questo script manualmente vediamo che il file viene eseguito e il risultato in questo caso è il nome del file che abbiamo eseguito quindi questo più l'argomento che io ho passato al file quindi in questo caso fabbio quindi questo magari lo vediamo in un corso più avanzato a cui sto lavorando sempre su python che essenzialmente vi permette di utilizzare gli argomenti passati al file in modo specifico all'interno del vostro programma quindi se il vostro script è accettato una serie di argomenti potete utilizzarli per varie situazioni poi l'ultimo esempio di questo modulo è il get windows version lo utilizziamo all'interno della powershell di windows ovviamente questo va fatto con interprete allora innanzitutto abbiamo aprire l'interprete e poi possiamo copiare il nostro ok ovviamente non l'ho importato allora dovete prima importare il modulo come l'abbiamo fatto con questa riga e poi potete utilizzare la funzione get windows version in questo modo abbiamo come risultato la versione del sistema operativo che sto usando quindi windows 10.0 e la build la 18362 platform 2 service pack e non c'è nulla quindi una riga vuota poi passiamo alla mia ID e vediamo un altro modulo allora questo modulo che vediamo a breve ci permette di eseguire alcune operazioni relative al sistema al file system quindi al file di sistema e al sistema operativo quindi questo modulo si chiama sh-util allora lo importiamo se il modulo non funziona è perché lo dovete installare non ricordo esattamente se questo modulo va installato ve lo dico subito allora no il modulo sh-util dovrebbe essere parte della libreria standard di python quindi lo potete utilizzare immediatamente semplicemente una volta che lo avete importato all'inizio del vostro file quindi in questo caso eccolo qui il modulo sh-util lo possiamo utilizzare in questo modo print come anche gli altri allora come vedete dopo il punto abbiamo accesso una serie di operazioni quindi una serie di metodi che possiamo utilizzare il primo metodo è il metodo which ma ce ne sono molti altri tra cui copy move rm tree rimuovere il tree quindi ognuno di questi ovviamente ha la sua descrizione all'interno dell'id e vediamo vediamo questo metodo allora questo metodo come immaginerete ci darà come risultato l'utilizzo del disco rigido quindi che quanta porzione del disco rigido è utilizzata o meno allora ed eccolo qui alla fine usage total quindi il totale del disponibile usato e libero spazio libero un'altra operazione che possiamo fare ok allora print ad esempio utilizziamo questo allora ad esempio vediamo qual'è la versione di php questo comando ci permette di localizzare dove è in questo caso questo programma che io passo tra come attributo quindi ci dirà dov'è il programma php poi ce ne sono anche altri ad esempio print sutil get allora questo ci darà la misura del terminale in formato in formato di righe e colonne poi allora vedete questo ci dice che il terminale del sistema operativo è composto da 111 colonne e 9 righe se io lo restringo in questo modo vedete che il risultato cambia risultato risultiamo un'altra volta il codice e in questa volta è di 5 linee e 111 colonne quindi potete utilizzare queste informazioni questo è un tuple potete utilizzare queste informazioni per fare varie cose a seconda delle necessità del vostro programma print un'altra operazione che come dicevo potete utilizzare operazioni per interagire col sistema operativo quindi potete anche copiare file all'interno di questa cartella un file chiamato test.txt allora shtil copy allora il metodo copia accetta due parametri anzi tre ma questi sono obbligatori i primi due è la sorgente quindi è una stringa e poi la destinazione quindi questo essenzialmente allora questo già è presente lo cancelliamo allora questo fa questo comando essenzialmente copia il file test.txt e crea un nuovo file che lo che lo chiama new test.txt ed eccolo qui ovviamente ci sono molte altre operazioni come al solito come ho detto anche per gli altri moduli dovete vi consiglio di leggere la documentazione il prossimo modulo ps utile questo modulo va installato non è disponibile nella libreria standard di python lo potete fare in due modi se siete in ambiente linux potete fare sudo pip3 se avete problemi di autorizzazione install psutil o altrimenti o altrimenti pip3 install psutil utilizzando sempre pip questi due modi oppure comunque consultate la documentazione del modulo psutil allora innanzitutto lo importiamo io già ce l'ho installato allora uno delle funzioni questo modulo ha varie funzioni che sono molto interessanti allora iniziamo da una funzione chiamata cpu percent allora questo ci da l'utilizzo della cpu e formatteremo poi allora questo ci da in percentuale quanto stiamo utilizzando la nostra cpu adesso se vogliamo possiamo formattare il risultato utilizzando uno dei metodi sulle stringhe che è questo questa è una stringa e il risultato sarà una percentuale in questo caso ci dice che il mio sistema sta sfruttando la cpu al 76 40% abbastanza sovraccarico direi e ogni volta che lo eseguiamo otterremo un risultato diverso a seconda di quanto è il carico sulla cpu questo momento lo sto registrando quindi il carico è più alto ho chiuso la power shell quindi il carico è diminuito e quindi a seconda delle esigenze potete utilizzare questo modulo per verificare se nel sistema in cui gira il vostro script il sistema è sovraccarico quindi magari farete un'operazione quando il consumo della cpu scende ad esempio sotto il 50% se è più alto non lo farete insomma poi dipende a seconda dei vari casi scrivo una serie di funzioni che voglio mostrarvi e vediamo il risultato e poi lo commentiamo subito dopo allora psutil cpu count questo ovviamente si auto spiega questo ci dice quante cpu ci sono nel sistema psutil cpu stats questo ci da una serie di informazioni di relativa di cpu poi get load average allora questi tre seguiamo subito questi tre allora questo è il carico della cpu questo è il carico sul sistema sul cpu questi sono i core quindi quanti cpu ha il mio sistema 8 core quindi 8 questi sono alcune informazioni relative alla cpu e questo è il carico medio sul cpu credo non sono sicuro riguardo questo allora vediamone altri psutil allora questo ci da delle informazioni sulla virtual memory ovviamente ci sono una marea di metodi che potete utilizzare relativi a ciascuno dei moduli quindi per ognuno manca la r per ognuno c'è la documentazione e quindi la potete studiare prima di utilizzarla poi ne copio alcuni che li ho annotati qui allora questi allora questo questo metodo ci da accesso alle partizioni dell'hard disk qua ci dice quanto hard disk stiamo utilizzando è relativo a una determinata posizione qui abbiamo delle informazioni relative ai network queste funzionano all'interno della powershell non qui perchè sto utilizzando windows subsystem linux e alcune di queste funzioni non funzionano gioco di parole e quest'altro ci da accesso a quanti processi stanno attualmente in esecuzione all'interno del sistema operativo salviamo eseguiamo nuovamente il nostro codice vado un po' più veloce perchè è passata un'ora e mezza il tempo a nostra disposizione si sta per esaurire e quindi questi sono i risultati relativi alla connessione alle interfacce del network e all'hard disk e ai PID quindi dei processi attualmente attivi nel sistema sotto forma di lista e ognuno di questi ha la sua documentazione e potete consultarla per conto vostro poi un altro modulo molto molto interessante è il modulo PIL ho salvato un'immagine all'interno della cartella che è questa e il modulo PIL ci permette di fare il delle operazioni python imaging library ci permette di lavorare con le immagini il modulo è enorme ci sono moltissime funzioni sottomoduli che potete utilizzare io in questo esempio utilizzerò il sottomodulo image lo importiamo in questo modo ve lo faccio vedere magari sono troppo veloce PIL.image quindi accedo al sottomodulo e lo importo come PIL.image gli assegno un nome diverso per praticità poi definisco una variabile immagine a cui faccio seguire quindi il risultato di questa operazione che faccio attraverso il modulo PIL quindi seleziono il nome che ho assegnato al modulo poi utilizzo il metodo open che mi permette di aprire un'immagine e salvo il suo contenuto all'interno della variabile immagine posso stampare l'immagine le informazioni relative all'immagine non stamperò sul terminal l'immagine stessa ma alcune informazioni relative all'immagine e come vedete tra un momento quando tutto questo finisce allora queste sono le informazioni relative all'immagine mi dà la dimensione il schermacolore quindi rgb questo è il nome della altre informazioni relative all'immagine questa è la posizione dell'immagine rispetto alla memoria e possiamo stampare altre informazioni direttamente quindi image size quindi voglio prendere solo l'immagine è solo la misura dell'immagine quindi a seconda magari della dimensione o potete ridimensionare quindi potete utilizzare un altro dei moduli della libreria pilla per ridimensionare l'immagine se è troppo grande se è troppo piccola potete fare altre operazioni a seconda del metodo potete magari lavorare sui colori eccetera il modulo è enorme quindi non non basterebbe un intero corso per coprirlo tutto quindi vado abbastanza spedito in questo momento quindi la documentazione la trovate sempre linkata nella descrizione un altro modulo che voglio velocemente mostrarvi è il modulo pandas questo modulo viene utilizzato per lavorare con dati strutturali anche questo è abbastanza complesso è esteso e potete quindi consultare la sua documentazione e come al solito il link è nella descrizione lo importate allora il modulo pandas se non erro è da installare potete installarlo col comando pip3 o pip se siete in windows install pandas e una volta che l'avete installato potete fare essenzialmente una cosa del genere dopo che siamo in ambito coronavirus vediamo un po' infetti e creiamo due variabili a ogni variabile assegniamo una lista di valori in questo caso sono numeri a caso ok ho preso uno due tre quattro cinque valori a caso poi un'altra variabile infetti e morti e morti e 9 3 5 6 quanti valori sono 1 2 3 5 valori allora prendiamo la prima variabile allora la prima lista e la organizzo la ordino in ordine ascendente poi prendo le morti e le ordino e adesso possiamo utilizzare il metodo il modulo panda per creare un data frame chiamato così che ci permette di visualizzare queste informazioni sotto forma di una tabella essenzialmente allora data pandas data frame allora data frame passiamo innanzitutto un dizionario che contiene le nostre informazioni che abbiamo definito qui sopra sotto forma di dizionario quindi la chiave una descrizione e qui passiamo la lista infected poi un altro valore passiamo passiamo la nostra variabile poi come secondo argomento al metodo data frame relativo al modulo pandas possiamo passare un indice in questo caso passerò un indice di nazioni sotto forma di lista anch'esso quindi ita sono a caso allora e adesso prendiamo il nostro dato e lo stampiamo sullo schermo come vedete a breve il modulo panda ci darà accesso a una tabella con i dati al suo interno strutturati organizzati in un certo modo quindi prenderà come indice le nazioni che ho specificato qui nell'attributo index che lo trovate qui eccola poi la tabella avrà come contestazioni nella prima riga gli infetti e le morti e siccome ho ordinato le due liste le ho ordinate i valori vanno a scendere a incrementare quindi da più piccolo a più alto e in questo modo potete visualizzare alcuni dati utilizzando liste e un indice con altre liste quindi potete creare dei report ad esempio anche per questo quindi come ho detto prima il modulo pandas lo trovate tutta la documentazione all'interno della descrizione del video poi un altro modulo che questo è molto importante che utilizzeremo spesso nella nostra carriera sviluppatori il modulo csv il formato csv è un formato che viene utilizzato per racchiudere e viene utilizzato per racchiudere delle informazioni ogni riga contiene dei campi ciascun di essi è separato con un delimitatore spesso utilizziamo separato con una virgola è spesso usato come formato di esportazione dei dati e possiamo utilizzarlo grazie a questo modulo possiamo leggere o generare file vi mostro immediatamente come ha fatto un file csv utilizzando il modulo allora lo importiamo dalla libreria standard allora iniziamo con generare un file csv allora lo generiamo in questo modo allora crea una variabile crea una variabile employees a cui assegno una lista che contiene una lista di elementi liste di elementi quindi questa è la prima lista all'interno della lista ci sono altre liste ciascuna delle quali contiene degli elementi poi avro il file in scrittura e il primo parametro è il nome del file quindi employees .csv il secondo parametro è il modo quindi come voglio aprire questo file in questo caso è in lettura è in scrittura è in lettura come lo apriamo come file quindi gli assegno al risultato a questa istanza del file gli assegno alla variabile file e in questo modo posso lavorare con il suo contenuto crea una variabile writer e la variabile writer la assegno al modulo csv al risultato di questo metodo che è il metodo writer mi permette di scrivere all'interno del file e il metodo writer vuole una serie di argomenti ma uno è essenzialmente obbligatorio che sarebbe il nome del file il contenuto del file quindi file come vedete sarebbe questa variabile che ho definito qui e praticamente possiamo fare due cose qui allora utilizzare questa variabile employees che contiene questa lista con una serie di elementi e creare il nostro file csv con questa informazione all'interno e lo utilizziamo write rows quindi il metodo write rows essenzialmente ci permette di inserire più righe simultaneamente quindi in questo caso vi passo come parametro una lista di liste che contengono valori che voglio facciano parte del file csv e poi un'altra cosa che volendo posso fare è utilizzare la funzione writer write row quindi scrivo una riga singola e all'interno della quale passo una lista quindi questo metodo scrive una riga alla volta essenzialmente ad esempio passiamo una lista di un altro dipendente 50 allora questo è il numero allora se io lo copio questo allora praticamente write row scrive un'unica riga alla volta mentre write rows scrive più righe più righe in una volta sola essenzialmente quindi questa ha bisogno di un valore iterabile quindi una lista a sua volta che contiene gli elementi che io voglio scrivere all'interno del file quindi il file che verrà generato ce ne avevo già uno lo cancelliamo allora il file che verrà generato essenzialmente conterrà le informazioni che io ho definito qui all'interno della di questo script quindi apriamo il file vedete il file adesso contiene una due tre cinque righe ogni riga ha un'informazione specifica relativa ai dipendenti quindi il nome del dipendente l'età e il suo ruolo possiamo oltre che scriverlo possiamo anche leggerlo quindi una volta che eseguiremo il nostro file vedrete subito che il risultato del file il contenuto del file verrà mostrato qui nella riga di comando quindi come lo leggiamo questo file csv lo leggiamo nello stesso modo in cui lo apriamo più o meno e qui bisogna indicare il nome del file in lettura che quindi è il metodo di base quindi di base la funzione open apre il file in lettura e utilizzo la parola chiave with questa praticamente mi permette di aprire e chiudere il file centrato per lo chiudere successivamente quindi lo chiude una volta che ho finito altrimenti ci dobbiamo ricordare che se utilizziamo solamente la funzione open in questo modo poi il file rimane aperto e lo dobbiamo chiudere altrimenti resta aperto in questo modo viene chiuso allora leggiamo il file utilizzando il metodo csv reader e passiamo il contenuto del file che è salvato una variabile file e poi dobbiamo iterare per ogni riga quindi questo file concede una serie di righe quindi vogliamo che la nostra il nostro script ci mostrerà ciascuna riga quindi print in questo modo il nostro script ci mostrerà ciascuna riga all'interno della nostra riga di comando qui dopo la tabella ok quindi otteniamo una lista una lista di il file concede tutti questi queste righe e sotto forma di lista quindi ogni elemento all'interno di una lista e poi ovviamente siccome una lista possiamo farci quello che ci ci serve anche questo modulo ha la sua documentazione che potete consultare una volta finito il video e l'ultimo modulo è il modulo subprocess questo modulo ci permette di eseguire dei comandi di sistema all'interno del nostro script e questi comandi vengono passati sotto forma di lista quindi all'interno di una lista e ogni argomento del comando viene specificato come elemento della lista vado subito a spiegarvi che cosa intendo importo il modulo in questo modo e poi utilizzo un comando solo allora list allora crea una variabile list files questa variabile conterà l'elenco dei file che io vado a eseguire col comando subprocess allora il comando subprocess per funzionare bisogna invocare il metodo run che ci permette di eseguire un comando e passiamo al comando se il comando è composto da un'unica rega da un unico elemento un unico valore quindi è solo ls possiamo passarlo come stringa in questo modo ma altrimenti se vogliamo passare più degli argomenti al al nostro comando dobbiamo inserirli all'interno di una dobbiamo inserirli all'interno di una di una lista in questo modo e gli argomenti vanno indicati come elementi della lista quindi se il nostro comando è questo ls che ci da una lista dei file in questo caso è relativa alla diretta ricorrente e il secondo parametro meno alt ci da delle ulteriori informazioni tra cui i file nascosti e le informazioni arriva al file e inclusa la data qui e praticamente va indicato come un ulteriore elemento della lista se avesse se vogliamo specificare una una cartella ad esempio quindi questo vedete che in questa qui in questa posizione c'è anche una cartella se io voglio solamente i file all'interno di questa cartella posso specificare come parametro aggiuntivo il nome della cartella come elemento della lista e otterrò come risultato tutti i file all'interno della cartella in questo caso chiamata wrapmaker che fa parte dell'ultimo del progetto finale per questo corso che ovviamente non facciamo in tempo a vedere in questo video ma lo vediamo nel video successivo ecco allora e quindi ricapitoliamo il comando e i suoi argomenti vengono passati come elementi di una lista anche qui come ho detto per tutti i moduli precedenti vi consiglio di redigere la documentazione e non è che dovete imparare tutti questi moduli e i loro metodi e i loro attributi a memoria ma sapete dovete essenzialmente sapere che esistono che la documentazione è lì a disposizione spesso i moduli la documentazione dei moduli può essere consultata direttamente dalla all'interno dell'ID in questo modo quindi avete accesso a una serie di informazioni ma a volte la documentazione è un po' scarna e non ci sono delle spiegazioni di come utilizzare il modulo precisamente quindi potete andare direttamente a visitare la pagina ufficiale del modulo nella libreria standard di python quindi è tutto per i moduli ce ne sono una marea quindi se volete quando volete sviluppare qualcosa fate prima di tutto una ricerca per trovare quali sono gli strumenti in questo caso i moduli più adatti al caso come dicevo per concludere il corso ho pensato di realizzare insieme un progetto divertente finale lo vediamo nella prossima puntata il progetto si chiama rap maker essenzialmente ci permetterà di trovare delle parole corrispondenti per creare una canzone rap ve lo spiego nel prossimo episodio l'ultima cosa che volevo aggiungere relativa ai moduli è che possiamo anche creare un modulo noi stessi brevemente ve lo spiego allora per creare un modulo essenzialmente dovete immaginare che un modulo equivale a un file o a un gruppo di file il modulo più semplice è un file quindi partiamo da quello creiamo un nuovo file innanzitutto la riga shebang poi specifichiamo l'environment salviamo il file lo chiamiamo modulo modulo.python ok module.example.pi questo è il nome che ho assinato il file e in questo file essenzialmente che cosa facciamo possiamo definire funzioni attributi funzioni strutture variabili di dati insomma creare una serie di funzioni che poi vogliamo utilizzare all'interno di un altro file o ripetutamente all'interno del nostro programma quindi ad esempio definisco una funzione trovami la funzione accetta un parametro ad esempio nome la chiamo call me accetta un nome e vado a braccio adesso un attimo poi vi spiego allora una cosa più semplice che mi ha donato in mente al volo per spiegarvi come funziona allora ho creato una funzione all'interno di questo file e la funzione accetta un parametro e il parametro e successivamente ci chiede un input quindi ci chiede il nostro nome e poi ci saluta essenzialmente quindi greeting sta per saluto quindi possiamo dire ciao possiamo specificare una stringa all'interno di questa funzione e e poi invocare questa funzione con qualsiasi tipo di saluto che vogliamo e ci chiede il nome e quindi poi ci saluta essenzialmente allora se io voglio utilizzare questo modulo quindi questo è un modulo in questo caso essenzialmente un file che contiene una serie di funzioni o valori quindi possono essere anche liste e strutture dei dati variabili eccetera quindi innanzitutto dobbiamo importarlo quindi from utilizziamo la parola chiave from per importare questo modulo e la parola chiave from è seguita dal nome del modulo in questo caso in questo caso il terminal l'id ci consiglia subito poi dal modulo in questo caso all'interno del mio modulo abbiamo definito solamente una funzione quindi laggiamo direttamente ma volendo se ci ne fossero una decina di funzioni qui dentro le potremmo importare tutte insieme utilizzando l'asterisco quindi questo specifica allora questo praticamente specifica al file che vogliamo importare tutto quello che è contenuto nell'interno del del file module example o altrimenti possiamo fare così importa come si chiamava la funzione colmi importa colmi quindi abbiamo importato all'interno di questo file la funzione colmi adesso la possiamo utilizzare essenzialmente quindi abbiamo creato un modulo e questo modulo ci permette di ci permette di utilizzare le funcine di contone all'interno come abbiamo fatto per il modulo che abbiamo definito noi stessi quindi il il modulo si chiamava colmi vedete che me lo suggerisce immediatamente colmi il modulo accetta una stringa a cui possiamo dire possiamo inserire una cosa bella lo chiamiamo questo modulo invochiamo quindi la funzione in questo modo in questo modo riserviamo il codice una volta che ha finito di eseguire tutti questi gli esempi che abbiamo fatto qui adesso vedete che il terminale si blocca con questo messaggio what's your name quale è il tuo nome metto il mio nome Fabio e ci dice bella Fabio quindi abbiamo con successo creato il nostro primo modulo molto semplice e lo abbiamo poi utilizzato importandolo all'interno di un altro file quindi possiamo creare un programma complesso poi lo possiamo riorganizzare dividendolo in moduli e questi moduli essenzialmente poi li possiamo importare in uno o più file a seconda della necessità quindi se io volessi riutilizzare all'interno di un altro file del mio programma questo modulo di esempio che l'ho appena creato lo posso utilizzare semplicemente importandolo di nuovo all'interno di un nuovo file e quindi per questo è tutto per oggi è tutto se avete visto il video fino a qui grazie se vi è piaciuto fatelo sempre nei commenti ci vediamo nel prossimo video dove insieme lavoreremo ad un programma essenzialmente come vi dicevo poco fa il programma ci permetterà di iscrivervi a una canzone rap e ci vediamo alla prossima al prossimo episodio e spero di riuscire a registrare in un paio di giorni grazie a tutti mi raccomando state al sicuro restate a casa non uscite e paratevi cura bello grazie a tutti